Buongiorno, benvenuti al Focus Tg, siamo in diretta, in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ci sono molte notizie da dare, oggi saremo in onda fino alle 13.30, avremo ospiti in studio, avremo collegamenti in diretta con i nostri giornalisti, daremo un'occhiata anche a quello che sta succedendo alla mostra del cinema di Venezia, dove c'è una nostra troupe fissa per seguire questo importantissimo evento, ancora più importante quest'anno con la ripartenza, la rinascita di quasi tutte le attività. Poi vediamo anche i dati dell'emergenza coronavirus, vediamo quello che sta succedendo con questa pandemia che non sembra voler mollare la presa, i dati effettivamente non sono fantastici, neppure oggi sotto il profilo numerico, ma tutto questo lo vediamo nel corso della nostra informazione. Partiamo con un piccolo riepilogo delle puntate precedenti, come si suol dire, giusto per sapere di che cosa stiamo parlando. Uno dei temi, lo potete anche vedere nelle grafiche, nelle sovrimpressioni sul vostro televisore, 1411 giorni in attesa del governo dopo il referendum che ha sancito chiaramente la volontà dei Veneti per quanto concerne l'autonomia, Zaia ha parlato proprio di autonomia. Sentite cosa ha detto. Conto già la prossima settimana a fare un altro incontro con il ministro Gelmini, mi incontrerò anche con i tecnici per cominciare ad abbozzare quello che saranno i passi successivi per portare avanti il nostro progetto di autonomia. Da qui si riparte già nei prossimi giorni, assicura il presidente Zaia Villorba per presentare il candidato sindaco di Lega e Fratelli d'Italia. Sindaci, dice il governatore, che proprio nel percorso dell'autonomia hanno un ruolo chiave e non manca un mezzo avviso ai naviganti. L'autonomia ce la meritiamo, ho bisogno di una squadra di sindaci che ci credano. Io ho ancora quattro anni da fare in regione, molti sono felici, però questa felicità gliela tolgo all'ultimo istante. Più in generale la questione politica resta immutata, così come pare di capire le resistenze centrali, nonostante le dichiarazioni di principio. Non è che a Roma fanno i salti di gioia per l'autonomia del Veneto, però fortunatamente avendo un referendum alle spalle con 2 milioni e 273 mila veneti che hanno votato è più facile andare lì a battere i pugni. Si riprendono bene le attività, anche perché sono state ferme ormai una ventina di mesi a causa del coronavirus. Coronavirus che va detto continua a colpire come dimostra il numero di ricoveri in costante aumento, ma comunque circoscritto a livello ospedaliero grazie ai vaccini, campagna vaccinale che Zaia rivendica. Siamo arrivati a 6 milioni e mezzo di dosi. Sentite, io penso una cosa, che sia un fatto di civiltà. Noi non siamo chiamati a decidere se devi vaccinarti o no, ma siamo chiamati a darti l'opportunità di vaccinarti se vuoi vaccinarti. Ma se tu non ti vuoi vaccinare, la tua libertà finisce dove inizia la mia. E deve essere chiaro questo? Questa è la domanda tutt'altro che retorica. Nei giorni in cui aumentano gli attacchi di alcune frange del popolo no-vax e no-pass, un clima d'odio che preoccupa. Dal 22 febbraio 2020 che stiamo inannellando minacce, lettere minatorie e altro. È il segno dei tempi. Mi sento solo di dire che il conflitto, la violenza non serve a nulla. Concetto ribadito dal palco con toni molto più forti. È vergognoso e vomittevole sentire persone che ancora dicono in giro che è la roba che riguarda i vecchi, che è la roba che riguarda i malati, perché non hanno diritto di vivere queste persone. Noi Veneti non siamo così. La vaccinazione, cari signori, lasciatemelo dire, ci sta portando fuori da questo casino. Allora, nel frattempo è arrivato in studio l'onorevole Germano Racchella, sindaco di Cartigliano. Buongiorno onorevole, grazie per essere venuto qui in studio con noi. Ci eravamo ripromessi di vederci a cadenza più o meno fissa, perché naturalmente gli impegni sono molti, per parlare un po' di quello che succede a Roma, un po' di quello che sta succedendo giù con il governo, un po' però anche del territorio. Quindi approfitterei della sua presenza qui per fare un po' il punto sulla notizia più di attualità per quanto riguarda la Pedemontana in questo momento, ovvero il focolaio che è scoppiato all'interno della casa di riposo appunto di Cartigliano. Anche se non abbiamo i dati precisi, non importa, è proprio per capire più o meno come si sta muovendo la situazione, anche perché è stato il primo caso di ritorno del Covid in una casa di riposo dopo la vaccinazione intensiva dei mesi scorsi ed è probabile che qualcosa sia cambiato. Secondo lei è cambiato qualcosa? Beh, i dati aggiornati a ieri, perché di solito abbiamo nel pomeriggio, stiamo attendendo oggi i dati appunto per i tamponi molecolari che hanno fatto nella giornata di ieri. A ieri erano 33 ospiti, dunque sono leggermente aumentati, più di due unità. Invece gli operatori sanitari nessun nuovo caso. Stiamo aspettando, mi sembra abbiamo mandato tutte le cartelle all'AILS che sta chiedendo all'AIFA di partire con il trattamento dei monocolonari. Speriamo funzioni, per 30 giorni ci saranno i pazienti, gli ospiti appunto che faranno questo trattamento degli anticorpi monocolonari e speriamo sia una via d'uscita. Io mi aspetto naturalmente che essendo un focolaio che i numeri salgano, ma nello stesso tempo calino, anche perché quelli che si sono ammalati una settimana fa, in teoria, fra 5 giorni, 6 giorni dovrebbero anche guarire. Fortunatamente, come è stato detto più volte, sono quasi tutti vaccinati e dunque nessuno ha segni di sofferenza e sono quasi tutti asintomatici, a parte un caso che è febbricitante, ma poca cosa insomma. Ecco, questo dettaglio è estremamente importante anche nell'ambito della discussione di questo periodo sull'importanza, su quello che possono fare i vaccini. Le pongo una domanda, un po' da prendere con le pinze, però insomma cerchiamo di gestirla a dovere. Se fosse successo un anno fa o nella fase critica del primo lockdown, secondo lei sarebbero questi i risultati del focolaio scoppiato a Cartigliano? Guardando i dati, no, assolutamente no. Ci sarebbero stati casi molto, molto, molto più gravi. Tornando i vaccini, fortunatamente hanno fatto il vaccino, dunque come tutti ben sappiamo con il vaccino chi lo prende l'effetto è molto, molto meno impattante. Dunque io sono vaccinato, però dobbiamo anche dire una cosa, che molte persone pensano che essere vaccinati significa non prendere il Covid. Sbagliatissimo, la casa di riposo in Cartigliano lo dimostra, uno se lo può prendere in forma leggera come lo può trasmettere. Dunque anche se vaccinati dobbiamo rispettare tutte le normative anti-Covid, usare la mascherina, stare attenti nel distanziamento e non pensare di essere a tutela. Dobbiamo farlo per la tutela nostra, ma soprattutto per la tutela degli altri. Legato a doppio filo con il tema di cui abbiamo appena parlato, c'è il tema del Green Pass con le tensioni anche sociali fortissime di questo periodo. Doveva andare in scena una manifestazione di protesta con il blocco dei treni, con le stazioni dei treni prese d'assalto. Questa era un'idea, poi è sempre molto difficile capire quando si muove la pancia, quando si muove la voce della gente e non è andata come si pensava. Vediamo un servizio su come è andata questa manifestazione a Treviso, poi ne parliamo con l'onorevole Rachella. Una decina, poco più, poco meno i no Green Pass che si sono ritrovati davanti alla stazione di Treviso per quella che su Telegram era stata annunciata come una giornata di mobilitazione con tanto di blocco della circolazione ferroviaria. Minaccia che ha portato all'imponente dispiegamento di uomini e mezzi a Treviso capoluogo come a Conegliano tra le 54 città italiane nel Mirino. Diversi gli operatori schierati a supportare la polfer, anche la questura, i carabinieri e la polizia locale. Alla fine però il flop è stato evidente ad ammetterlo gli stessi manifestanti. Anch'io mi sono stupito che ci fosse poca gente, evidentemente non è stato pubblicizzato. Io mi sono imbattuto per caso in un opuscol, un volantino praticamente. A incidere forse gli appelli delle istituzioni, a non esacerbare i toni e la prospettiva di sanzioni immediate, nessuno tra chi c'è dice però di voler occupare i binari, altri tirano in ballo parallelismi storici estremi. Sono qui solo per la manifestazione e non per occupare i treni. Si dice siamo pacifici. No, io sono pacifici, io sono un divulgatore del Vangelo di San Marco. Il Green Pass, come dicono tutti, è semplicemente un mezzo surrettizio per indurre la gente a vaccinarsi, una specie di piccolo o grande ricatto, perché rende la vinta difficile a chi non è vaccinato e non è corretto. C'è in ballo quello che è successo anni fa, che anche anni fa è stata così. Anni fa è stata così, c'era l'assenza dietro e gli ebrei sono finiti in campo di concentramento con gli zingari, con i sacerdoti. Non è un'estremizzazione questa? Lei le pare? Lei le pare che sia un'estremizzazione questa? Con la polizia schierata posso neanche entrare in stazione? Che se vado a qualsiasi posto a mangiare seduto non posso farlo, devo stare fuori? Le pare che questo è normale? Di questo tema parleremo subito dopo la pubblicità con il nostro ospite, l'onorevole Germano Rachella. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus Tg. Siamo in diretta in onda anche oggi fino alle 13.30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, per cercare anche di capire quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo appena visto con il nostro ospite, l'onorevole Germano Rachella, sindaco di Cartigliano, il nostro servizio sulla manifestazione No Green Pass andata in scena. Ieri, in questo caso, eravamo nella marca trevigiana, ma abbiamo tutte le principali città del Veneto perché le nostre redazioni se ne sono occupate in modo davvero capillare per vedere che cosa sta succedendo. manifestazione definita flop da alcuni, manifestazione che secondo altri invece era stata addirittura organizzata malamente apposta per mettere in cattiva luce questa situazione. Onorevole, tutte queste supposizioni ci dicono che il clima, anche sociale, si sta un po' avvelenando con questo tema del Green Pass. Sì, stiamo vivendo per niente un buon clima ed è una tematica da prendere molto con le pinze. Noi l'avremo in aula la prossima settimana, dove l'affronteremo, sarà una settimana tosta. La mia preoccupazione sarà il 13 settembre, quando riapriranno le scuole, dove tutti gli insegnanti devono avere il Green Pass. Non è un problema da poco, perché non tutti gli insegnanti non vogliono fare o non possono fare il vaccino, ma si devono fare l'eventuale tampone. Le soluzioni sono due, o non rendiamo obbligatorio il Green Pass per gli insegnanti, per il personale scolastico, oppure dobbiamo fare il tampone gratuito per queste categorie, perché un insegnante ogni 48 ore si dovrebbe fare il tampone a 15 Euro. Ci sono anche i tamponi salivari, dunque ci sarebbe il modo per eventualmente che ottengano il Green Pass, però non glielo possiamo far pagare loro, perché altrimenti sarebbe un bagno di sangue naturalmente. Poi un'altra questione, il Green Pass sì per gli insegnanti, ma loro a questo punto dobbiamo inserire il Green Pass anche per tutti i dipendenti che vanno al lavoro, perché altrimenti facciamo le solite differenze che molto spesso io ho fatto la domanda al limite, perché per andare a Santa Messa non mi serve il Green Pass, però per andare al teatro mi serve. Dunque non perché io ci vado a Santa Messa e ci mancherebbe, però lo trovo un po' assurdo perché se c'è pericolo al teatro può esserci pericolo anche dall'altra parte. Dunque io mi auguro che la settimana prossima ci sia un decreto dove ne usciamo con idee molto, molto, molto chiare. Io sono il primo che invito a vaccinarsi, ricordiamo che il Green Pass non significa obbligo vaccinale, l'obbligo vaccinale personalmente è un'idea mia, non me la sento di renderlo obbligatorio, anche perché ci sono persone che hanno delle patologie che non lo possono fare e naturalmente questo sì sarebbe tremendo, allora sì facciamo una distinzione. Dobbiamo come deputati, come governo mettere sul piatto tutte le varie problematiche e affrontare la questione con calma ma in tempi molto, molto, molto stretti. Io prima della pausa estiva, l'avevo detto in commissione e avevo parlato da sindaco, ho detto ma quando affrontiamo la tematica della riapertura delle scuole con il ministro Speranza e con il ministro Bianchi? Sì, nulla è stato fatto, questo mi è dispiaciuto perché io da sindaco mi sento anche la responsabilità fra una settimana di dover aprire una scuola senza avere le idee chiare. Soprattutto anche capendo tutti i soldi che sono stati investiti a tutela per rispettare le normative anti-Covid, ora perché devo rendere obbligatorio anche Green Pass per andare a scuola quando per un anno e mezzo rispettando queste normative non sono cresciuti i casi o non è successo niente di particolare. Ultimamente sono cresciuti i casi ma non penso per il mondo scuola ma penso per le vacanze che la gente è andata in vacanza, che è giustissimo. Però certe assurdità, ad esempio l'obbligo dell'alta percorrenza del Green Pass dal 30 agosto quando moltissime persone andavano in vacanza con i mezzi pubblici in agosto. Dunque o serviva da subito oppure è inutile metterlo in questi giorni quando la macchina del lavoro sta partendo e dunque già ha sofferto, non dobbiamo farla soffrire ancora di più. A proposito di treni a lunga percorrenza, ieri sono iniziati i controlli anche a Vicenza, Vicenza snodo importantissimo, ferroviario anche in ottica futura sia per l'alta velocità che per la lunga percorrenza. C'era il timore della manifestazione No Green Pass e c'era naturalmente anche Rete Veneta. Ore 14.30, stazione ferroviaria di Vicenza. L'ora è il luogo che erano stati concordati dal popolo No Green Pass per manifestare anche nella città berica il dissenso per l'introduzione dell'obbligo del certificato sanitario da oggi per i treni a lunga percorrenza. Il Green Pass è obbligatorio, infatti ce l'ho pronto qui a essere esibito. Dovevo prendere il treno, ho dimenticato il telefono a casa col Green Pass dentro. Una disdetta, non sapevo, non si è ricordata. No, non mi sono proprio ricordata. Adesso prendo prima il regionale dopo l'Intercity, quindi già so che con il biglietto bisogna esibire anche il Green Pass. Avevano annunciato delle proteste, al momento non si vedono, però... Infatti, io per quello stiamo aspettando tutti, però per fortuna il corteo non si vede. Dei manifestanti, quindi, nemmeno l'ombra. A livello nazionale era però stata annunciata l'intenzione anche di occupare i binari e bloccare i treni. Per scongiurare la sospensione arbitraria del servizio, le forze dell'ordine comunque erano state schierate. I poliziotti del reparto mobile e i carabinieri scrutano i viaggiatori in arrivo. L'esterno della stazione è transennato e blindato. È stato configurato un unico percorso. Può accedere all'interno solo chi è in possesso di un titolo di viaggio. A controllarlo all'ingresso il personale delle ferrovie. Cosa ne pensi di questo? Penso che sia un po' giusto, secondo me, che ci sia pressione per questo Green Pass, così possiamo tornare alla normalità. Non è giusto. È un dovere fare il vaccino, tutto quanto, ma non è giusto. Cosa ne pensi di questa manifestazione, di questo annuncio? È una cosa che non ha senso. Se la maggioranza delle persone ci siamo vaccinati, allora che protestano a fare? Bisognerebbe mettere il buonsenso e la salute pubblica prima delle proprie paranoie. Non si trova davvero un punto di equilibrio, un punto di contatto. Sono tante e discordanti le opinioni. Si va dall'estremo da una parte e all'estremo alla parte opposta. Addirittura gli esempi sono quelli degli insegnanti, ma per le difficoltà che il Green Pass può causare al mondo della scuola, ma anche gli operai, le persone che lavorano nelle grandi aziende dicono stiamo gomito a gomito tutto il giorno con i nostri colleghi, con la mascherina, ma chi non ha il Green Pass non può venire in mensa. Ci chiediamo perché. E tutto questo non succede solo nelle grandi aziende e nelle fabbriche. È vero, onorevole Germano Arachella? No, no, non succede. Anzi, anzi, lo dico io che ci vivo, non riesco a capire perché dobbiamo rendere obbligatorio il Green Pass per andare in mensa o per andare in aula di un insegnante. A questo punto mi auguro che lo rendano obbligatorio anche per entrare a Montecitorio, nella Camera dei Deputati, perché ad oggi non è obbligatorio. Dunque se noi siamo i rappresentanti istituzionali del Paese Italia dovremmo essere i primi a dare l'esempio. Possiamo dire che Roma sul tema del Green Pass non sta esattamente dando il buon esempio. Ci parli capire che anche la mensa a Montecitorio si stia comportando in un modo un po' strano. Facciamo questo esempio per i nostri telespettatori. No, la mensa a Montecitorio non è strana. Nel senso che quello che è strano è che per entrare a Montecitorio in aula non serve Green Pass. Però nella mensa sono rispettati tutti i distanziamenti e quant'altro. Anzi, hanno tolto anche il buffet e altro. Sono stati tolti tutti. Dunque stiamo rispettando le normative anti-Covid. Quello che è strano è che se io per entrare in un'aula scolastica devo avere il Green Pass e per entrare in aula a Montecitorio dove siamo in 600 persone non mi serve il Green Pass. Dobbiamo essere, ripeto, noi siamo i rappresentanti che fanno le leggi e dovremmo essere i primi a farle rispettarle e rispettare. Dunque io spero martedì quando rientro a Roma in entrata ci sia una persona che mi chieda il Green Pass. Ci segniamo anche questo, facciamo il famoso nodo al fazzoletto, vedremo poi come sarà andata. Onorevole, guardiamo assieme ai nostri telespettatori e con lei i dati che ci arrivano dall'emergenza coronavirus, dalla sanità regionale perché non sono dati che fanno ben sperare. Sono addirittura 844 i nuovi positivi riscontrati nelle scorse ore. Mi pare di capire e di ricordare che sia il numero più alto dell'ultima settimana. Siamo infatti saliti sopra quota 13.000, siamo a 13.056. Ovviamente non sono le crescite esponenziali della prima fase, del primo lockdown, però in un momento come questo, arriviamo da un periodo decisamente più calmo, sono dati che saltano subito all'occhio. Sono 456.338 i nuovi positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 431.000 quelli che si sono negativizzati, sono purtroppo 11.691 i decessi con il coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte che è importantissima perché ci fa capire l'urto sulla sanità regionale. Sono 231 i ricoverati in area non critica, di cui 198 positivi, 33 negativi. 255 i ricoverati in terapia intensiva, di cui 52 ancora positivi, 3 che si sono negativizzati. Il bilancio è sostanzialmente invariato, 2 in più in terapia intensiva, 2 in meno, ovvio che sono bilanci, quindi in area non critica, purtroppo sono da segnalare anche 2 decessi. Onorevole, che dati stiamo vedendo? Stiamo vedendo 800 nuove positività, 700 nei giorni scorsi sono dati molto alti, però non cresce e questo mi pare che sia positivo e anche la sanità non soffre più di tanto perché questo è il livello che stiamo raggiungendo e lo teniamo ormai da giorni. Che cosa sta succedendo secondo lei? Fortunatamente i ricoveri non crescono, le criticità non crescono e ci mancherebbe altro. Dopo un anno e otto, nove mesi che viviamo assieme a questa pandemia sarebbe veramente una catastrofe se i ricoveri crescessero. Quello che mi fa un po' paura è che appunto è proprio da un anno e otto, nove mesi che abbiamo questa pandemia abbiamo rispettato, di più non posso, tutte le normative anti-covid, nel frattempo da gennaio si sono iniziati a fare i vaccini e dunque mi sembra che il 60% della popolazione sia vaccinata eppure i dati crescono. Non riesco a capire se stiamo andando alla famosa immunità di gregge che sta diventando il covid come lo è già un raffreddore che dunque dobbiamo curare normalmente o non capisco, mi preoccupa appunto questo innalzamento di casi. La variante Delta ha dato del suo, spero non arrivino altri varianti perché altrimenti dobbiamo sempre ripartire da zero. Comunque veramente posso capire anche il CTS, posso capire anche il governo nella difficoltà nell'affrontarla questa pandemia perché veramente questi dati, come si dice, ti fanno cadere le braccia perché uno non sa più come fare per contrastare questo maledetto covid. Però speriamo che i ricoveri non aumentino e speriamo di tenerli contenuti nei numeri di oggi. Quello che possiamo fare noi di Rete Veneta è raccontarvi, spiegarvi, farvi vedere i dati, di parlarne con le persone che possono aiutarci a capire queste situazioni come l'onorevole Germano Aracchella che è stato ospite qui della nostra trasmissione del Focus Tg, questa parte ibrida della nostra informazione in cui approfondiamo ma diamo anche notizie fresche di giornata. Sappiamo che la settimana prossima sarà molto complicata per il governo, per i nostri parlamentari a Roma quindi aspettiamo poi il ritorno, ci siamo fatti il famoso nodo al fazzoletto per vedere come sarà andata. Aspettiamo l'onorevole Aracchella la settimana prossima o quantomeno quanto potrà venirci a ragguagliare su quello che è successo o che succederà al governo. Grazie onorevole. Grazie a voi, è una raccomandazione che in questo mese di vacanza, ho girato poco ma qualche volta ho girato, il covid non è passato. Vedere anche locali pubblici, gente all'esterno, va bene siamo all'esterno ma tutti ammassati o spettacoli tutti ammassati anche se all'esterno, usiamo la mascherina e usiamo il buon senso perché non dobbiamo dimenticarci che la pandemia c'è ancora e la dobbiamo combattere tutti assieme. Grazie ancora a Rete Veneta per l'invito, ci vediamo magari la settimana prossima con notizie più confortanti. Grazie a tutti. Noi ringraziamo l'onorevole, con questo appello vi diamo appuntamento a pochissimi minuti perché abbiamo la pubblicità state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Avevamo qui con noi ospite in studio l'onorevole Germano Racchella che ci ha annunciato che il Green Pass entrerà all'attenzione del Parlamento la settimana prossima, se ne parlerà anche se le frizioni all'eterno della maggioranza sul tema sono già iniziate nelle scorse ore, quindi tema di grandissima attualità, tornerà l'onorevole a raccontarci come andrà questa vicenda. Che mettiamo un attimo da parte perché ora iniziamo il nostro giro di collegamenti, lo iniziamo con Vicenza, dove c'è la nostra Luisa Bertini, pronta a raccontarci quali sono le novità dall'area America. Buongiorno Luisa. Buongiorno a voi, io partirei con le notizie fresche di Cronaca, ci ha riservato la mattinata di giri di Cronaca perché c'è stato un arresto in flagranza per droga, un nigeriano è stato pizzicato dai carabinieri con due ovuli di cocaina, si tratta di un nigeriano di 37 anni, irregolare il territorio nazionale con precedenti specifici. È stato trovato attraverso un controllo a Vicenza in Viale Risorgimento che è grossomodo la zona sotto Monte Berico, quindi anche vicina a Campomarzo che è altra zona particolarmente attenzionata specie dalle pattuglie antidegrado proprio per questo tipo di problematiche. Quindi due involucri confezionati con il cellophane con 23 grammi di sostanza scupefacente che è stata ovviamente sottoposta a sequestro e il nigeriano è stato arrestato. Tra l'altro una volta che hanno iniziato a controllarlo ha tentato anche di disfarsene perché la tenevano sposta in tasca ma ovviamente è stato subito preso. Poi sempre altri episodi che riguardano la cronaca. Come succede in questo periodo? C'era stato un allentamento durante il lockdown ma in questo periodo iniziano a risentirsi i furti in azienda specie quelli relativi ai tubi in alluminio così come alle bobine di rame e questo è successo ad Altavilla Vicentina nella notte tra martedì e mercoledì in cui malintenzionati si sono introdotti all'interno di questa azienda in via dei laghi durante la notte e hanno urbato tubi in alluminio e bobine di rame per un valore di 3.600 euro. Diciamo che questo è quello che riserva la cronaca ma all'interno ci parleremo come dicevi tu anche del Green Pass e mi riservo per dopo diciamo una notizia che è più leggera perché riguarda una sorta di intrattenimento. Allora Luisa noi vediamo invece il servizio che la vostra redazione ha già preparato sulla manifestazione No Green Pass della scuola che c'è stata davanti al provveditorato ieri giorno di inizio per materne e nidi ci sono stati alcuni attriti. Vediamo il servizio poi torniamo da te per le ultime notizie Vicentine. Il mondo della scuola No Green Pass torna a far sentire la propria voce. Manifestazioni in mattinata sotto gli uffici del provveditorato agli studi di Vicenza, gli insegnanti, personale ATA, lavoratori della scuola e genitori uniti hanno ancora una volta ribadito la propria posizione in vista dell'apertura del 13 settembre del nuovo anno scolastico chiedendo ed ottenendo alla fine di essere ricevuti dal provveditore al quale hanno presentato una lettera proposta. Una proposta di aprire un dialogo, un tavolo di confronto tra provveditore e docenti che hanno dei dubbi rispetto alle legittimità da un lato del Green Pass e anche all'efficacia nella tutela della salute. Dubbi loro sul valore del Green Pass quale strumento di tutela della salute pubblica in quanto chi è vaccinato o ha l'esenzione al vaccino dicono potrebbe comunque contagiare e sul tampone replicano perché non fare test salivari per tutti. Lettera consegnata ma il provveditore che l'ha ricevuta sull'apertura di un tavolo rimanda a prefetture d'ufficio scolastico regionale e già i no Green Pass della scuola pensano a nuove manifestazioni. Intanto l'inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e loro sono pronti a resistere nonostante il rischio di perdere il posto di lavoro. La nostra intenzione è di resistere per quanto c'è possibile perché è chiaro tutti noi abbiamo una famiglia, quasi tutti noi, praticamente tutti noi abbiamo uno stipendio e quindi non è che abbiamo la possibilità di resistere all'infinito se ci tolgono lo stipendio ma certamente abbiamo intenzione di procedere in questa azione e se necessario avvieremo anche delle azioni legali a tutela dei nostri diritti. Proprio di questo tema del Green Pass, delle difficoltà legate alle scuole, avevamo parlato con l'onorevole Germano Rachella che tornerà a ragguagliarci anche su questo argomento. Adesso noi torniamo invece a Vicenza. Luisa, abbiamo visto il servizio sulla manifestazione delle scuole. Ci sono altre novità? Ci raccontavi del Green Pass a Vicenza? Sì, questa sera ve ne daremo conto all'interno del Tg. Comunque diciamo c'è stato un primo giorno di scuola diciamo difficoltoso magari su certi versi proprio per l'organizzazione e la gestione dei controlli. Adesso io volevo soffermarmi su una notizia diciamo più leggera nel senso che quest'anno la fiera del soco non si svolgerà qui, io adesso sono in questo momento a Grisignano di gioco, però le amministrazioni del territorio ci sono comunque date da fare per promuovere sia i prodotti del territorio e promuovere anche i negozi del vicinato perché si terrà in realtà una manifestazione che si chiama Distretto sotto le stelle dal 3 al 18 settembre in quattro comuni che sono Veggiano, Grisignano, Rubano e Mestrino e quindi che coinvolgono Vicenza e Padova. Si tratta di quattro amministrazioni con le associazioni di categoria che promuovono il commercio locale e offrono una rassegna di eventi nelle piazze e nelle vie adiacenti alla strada statale tra Vicenza e Padova che era quella che ospitava appunto la fiera del soco, la direttrice che diciamo chiama in causa questi quattro centri vitali. Quindi si partirà domani a Veggiano con l'apertura della nuova biblioteca e del centro culturale, quindi l'inaugurazione ufficiale, poi altri eventi di varia natura faranno tappa a Grisignano, a Rubano con serate di spettacoli così come di negozi aperti e a Rubano l'11 settembre ci sarà proprio una serata di degustazioni e di street show con un festival di strada. Ma la novità assoluta è il primo meeting del volontariato, quindi in questa prima edizione a cui parteciperà anche il ministro Erika Stefani, il ministro Soco, ma comunque i comuni si sono dati da fare ugualmente per promuovere il territorio. Notizia molto interessante perché ci fa capire che comunque qualcosa si può fare, che comunque dovremo guardare al futuro con occhi diversi ed essere pronti a cambiamenti anche nella nostra quotidianità, anche nelle tradizioni a volte e noi saremo sempre qui per raccontargli ai nostri telespettatori con i nostri giornalisti come Luisa Bertini che ci ha aggiornato di tutto quello che sta succedendo a Vicenza. Luisa, come sempre, se ci sono novità non esitate a contattarci e a darmi in diretta ai nostri telespettatori, tutto il resto lo vediamo nel TG di questa sera. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, però state con noi perché fra pochissimo saremo collegati con Venezia con la mostra del cinema. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di coronavirus, di Green Pass, di temi molto complessi, molto divisivi che stanno creando anche attriti sociali. Adesso andiamo invece a Venezia dove c'è il nostro Filippo Fois che con Renato Capoia ci racconta quello che sta accadendo. Alla mostra del cinema li vediamo in un contesto decisamente piacevole. Buongiorno Filippo. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Il contesto è abbastanza noto, è l'approdo da cui arrivano generalmente attori, registi della mostra del cinema, quello che spesso vedete anche nei telegiornali e nelle riviste. Qui ci troviamo, il flusso tra l'altro, quello che sta accadendo qui è un flusso praticamente ininterrotto di motoscafi che continuano a far sbarcare persone che spesso non sono né registi né attori. Però come adesso vi faccio vedere, la folla comunque degli appassionati di cinema si raduna, lo vedete in questa terrazza che è prospicente all'ingresso dell'hotel Excelsior alla ricerca appunto di qualche volto noto. Qui questo albergo è quello in cui è nata la mostra del cinema di Venezia nel 1933. Le prime proiezioni furono fatte qui e questa prima storica edizione fa del Festival di Venezia il festival cinematografico più antico non solo d'Italia ma del mondo perché all'epoca era un fatto unico e questo ne fa anche comunque, vista poi la cornice in cui si svolge, una delle kermesse cinematografiche più prestigiose che si svolgono dal mondo, una cosa che continua tutt'oggi. Ieri c'è stata la cerimonia d'apertura della mostra del cinema con la consegna del leone d'oro alla carriera a Roberto Benigni, poi è stata la volta di Pedro Almodovar che ha presentato il suo film che tra l'altro ha raccolto circa tre minuti di applausi, Madres Parallelas e stasera invece c'è molta attesa perché è il momento del regista premio Oscar tra l'altro Sorrentino che presenta il suo nuovo film. Noi in questo momento guarda Ferdinando ci stiamo proprio spostando e stiamo facendo questa passeggiata che è la passeggiata storica, cioè chi è stato a Lido queste cose le conosce, chi ha avuto la fortuna di venire qui è quella che conduce dall'hotel in cui sta la maggior parte dei protagonisti della mostra del cinema di Venezia fino a quello che è il palazzo del cinema in cui ieri è avvenuta l'inaugurazione della mostra con tra l'altro la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non è l'unico luogo naturalmente in cui si svolgono le proiezioni della mostra del cinema, ce ne sono diversi sparsi per il Lido e poi spesso capita anche che le proiezioni avvengano anche nel resto della città di Venezia con qualche giorno di ritardo. Ferdinando? Un po' di distanza fra di noi dal punto di vista tecnico, però intanto io ti faccio la domanda. Devo dire che non sento più lo studio per cui io vado avanti. Noi come dicevamo stiamo facendo questa passeggiata che ci porterà poi quindi al... Ecco Filippo abbiamo qualche piccola distanza tecnica. Allora quello che ti vogliamo chiedere però visto che avete parlato dell'arrivo di VIP volti noti delle stelle del cinema e anche volti... Abbiamo capito che abbiamo molta distanza Ferdinando per cui vado avanti io. Ok. Ok ok. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora guarda Ferdinando, sì abbiamo visto che purtroppo capita questo, tra l'altro voi dovete immaginare anche, e questo proprio lo diciamo anche scusandoci con i nostri telespettatori, ma è un evento quasi inevitabile, nel senso che qua c'è un tale affollamento di network italiani e ovviamente stranieri, soprattutto stranieri, per cui il segnale inevitabilmente inizia ad avere un ritardo che è quello che stiamo verificando adesso. Allora qui quello che vedete, questo l'avete visto mille volte, è il palazzo del cinema, quello in cui si svolge da decenni la mostra cinematografica di Venezia che però rispetto al passato ha una novità, una novità che è stata introdotta l'anno scorso. Ricordiamo che l'anno scorso il Festival del Cinema di Venezia si è svolto regolarmente, naturalmente con delle prescrizioni anti-Covid molto rigide, però per esempio Cannes è stato sospeso per coronavirus, a Venezia invece c'è stato e adesso vi facciamo vedere una cosa, qui c'è il cosiddetto red carpet, cioè il tappeto rosso in cui sfilano i protagonisti dei film che vengono dati poi in proiezione e qui su questa strada è il luogo in cui si assiepano naturalmente tutti gli appassionati che possono scattare fotografie e a volte anche se sono fortunati raccogliere un autografo dei loro beniamini. Ebbene per evitare assembramenti è stato piazzato lungo tutto il red carpet, quello che alla fine è un muro per quanto elegante con i simboli della Biennale d'Arte cinematografica, ma in questo modo è stata l'unica maniera per poter salvare il red carpet che comunque continua a rimanere un must della mostra e allo stesso tempo evitare, proprio per motivi anti-Covid, motivi anti-Covid che tra l'altro stanno rendendo le proiezioni particolarmente ambite e anche difficili da poterci assistere perché gli ingressi sono contingentati. Ci si siede una sedia sì, una sedia no, forse l'avrete notato anche nel corso della cerimonia di presentazione che c'è stata ieri. Per cui insomma il festival va avanti, deve andare avanti e lo fa, secondo quelle che sono le nuove esigenze che speriamo sia quest'anno per l'ultima volta. Io Ferdinando ti direi che da qua possiamo concludere stasera, poi abbiamo detto ci sarà questo film di Sorrentino, ma noi continueremo a seguire la mostra del cinema, per cui insomma ci teniamo in contatto. Noi ringraziamo Filippo Fois per questo bellissimo collegamento con Renato Capoi, abbiamo visto, avuto un primo assaggio di questa importantissima manifestazione, di questo appuntamento di caratura mondiale e ci racconterà nei prossimi giorni Filippo anche il seguito di quello che ci ha detto oggi, quindi la domanda che oggi non siamo riusciti a fargli sui VIP, sui Volti Noti, qualche star del cinema che si è vista scendere dal motoscafo a fare la promenade, la passeggiata che ci ha fatto vedere oggi lui, ce la racconterà domani magari con qualche intervista, con qualche approfondimento in più. Quindi noi ringraziamo i nostri colleghi, abbiamo alleggerito un po' il tema del nostro telegiornale, ma non è banale perché comunque prima o poi alla normalità bisogna tornarci e questa della festa del cinema, il festival del cinema di Venezia ovviamente è un sintomo, un segno che si riparte, si riparte, si va avanti, si torna a quello che si faceva prima. Altre cose, come invece ci ha raccontato la nostra Luisa Bertini da Vicenza, parlando della Fiera del Soco di Grisignano, deve per forza cambiare anche quest'anno, quindi non si terrà la sagra, la festa, ma ci saranno iniziative collaterali condivise nei comuni che facevano bacino da questa altra importante manifestazione. Quello che noi possiamo fare, come vi diciamo sempre, è raccontarvi, farvi vedere, cercare di capire assieme a voi dove stiamo andando. Allora, questo era il nostro collegamento veneziano, adesso sono arrivati anche i dati delle vaccinazioni, li vediamo prima di andare in pubblicità e di parlare poi con la nostra redazione padovana. Li vediamo con la regia di Alessandro Costacurta e Renzo Rigon, perché ieri sono state somministrate 20.972 dosi, il totale dall'inizio della campagna vaccinale è ormai a 6.289.759. Le prime dosi di ieri sono state 7.083, i cicli completati sono stati 13.889, il Veneto ha somministrato il 90,9% delle dosi a disposizione. Scendiamo in questa tabella per vedere che il 70% dei Veneti ha almeno una dose, sono ormai 3.400.000, mancano proprio poche unità, sono 61,6% i Veneti che hanno il ciclo ormai completato. Sono invece vediamo, non si muove molto per quanto riguarda le fasce di età, per vedere i movimenti bisogna vederli nel corso del lungo termine, possiamo però dire che dai 50-59 anni in su la copertura è buona, si muove bene anche la fascia 12-19 per la prima dose, poi per quanto riguarda la seconda dose ovviamente per vedere dati importanti bisogna andare sopra i 60 anni, le disabili e i vulnerabili sono ben coperti in questo momento e anche i dati settimanali ci dicono che stiamo correndo verso, vedete questa curva che riparte, stiamo correndo verso un nuovo innalzamento dei numeri di questa campagna vaccinale. Allora, questi erano i dati delle vaccinazioni. Prima di andare a Padova vediamo un video abbastanza impressionante sempre con la regia di Alessandro Costa Curta e Renzo Rigon che ci arriva dai Vigili del Fuoco perché c'è stato un furioso incendio, queste sono immagini che riguardano ieri sera, potete vedere fiamme alte oltre 20 metri in una segheria di Caerano San Marco, una situazione davvero spaventosa, non ci risultano al momento, non ci pare ci siano notizie di feriti o peggio ancora di persone che hanno perso la vita. Vigili del Fuoco impegnati tutta la notte, ecco le immagini che ci mandano proprio i Vigili del Fuoco, alcuni momenti impressionanti di questo incendio, però vogliamo farvi vedere proprio l'inizio di questo video che è, magari fermiamo un fermo immagine, vedete quanto sono alte le fiamme, quanto è impressionante questo roso rogo che si staglia sul cielo azzurro di inizio settembre e poi nel corso della nostra informazione tutte le altre informazioni anche su questa vicenda. Allora a questo punto potremmo anticipare di qualche minuto la pubblicità, però prima di andare in pubblicità vediamo una notizia perché abbiamo parlato di Green Pass e abbiamo sentito alcune delle persone intervistate dai nostri giornalisti dire che il Green Pass è in sostanza un obbligo vaccinale indiretto, è una sorta secondo alcuni di ricatto, se non ti vaccini non potrai fare nulla. Allora di questo ha parlato il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e questa mattina ha detto che il Green Pass non è un obbligo indiretto alla vaccinazione ma uno strumento che dà la libertà di non vaccinarsi. Paragonare il Green Pass, queste sono parole del sottosegretario Sileri, ha un obbligo vaccinale indiretto, non è corretto perché puoi ottenere il Green Pass anche con un tampone, ricorda il sottosegretario. Possiamo discutere sulla possibilità di tamponi a prezzi calmierati o anche gratuiti, ma il Green Pass è uno strumento di sicurezza sanitaria, il Green Pass dà la libertà di non vaccinarsi. Queste sono parole che arrivano quasi come una risposta alle polemiche dei giorni scorsi. Si comincia a parlare di tamponi a prezzi calmierati o gratuiti, questo è un dato molto importante perché è in pratica richiesto da tantissime categorie. È un costo sociale, un costo sanitario, un costo che bisognerà capire dove andrà eventualmente a gravare, ma si comincia a parlarne. Allora noi, visto che abbiamo la nostra Chiara Gaiani qui in diretta, via Skype, prima di andare in pubblicità, questa pubblicità facciamo sempre tempo a darla, andiamo da lei per una prima velocissima infarinatura delle notizie padovane, poi facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo e parliamo con i colleghi di quello che accade. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, visto che tu stavi parlando di tamponi, ti anticipo una cosa di cui ne parleremo magari più ampiamente, cioè il fatto che ieri è stata la prima giornata di apertura per Asilinido e per le scuole dell'infanzia comunali, c'è il periodo di inserimento per i bambini piccoli, però una circolare del Ministero arrivata il giorno prima ha chiarito che avrebbero dovuto avere il Green Pass per accompagnare i piccoli. Un genitore su cinque a Padova è stato inviato di corso in farmacia a farsi un tampone oppure è stato proprio rispedito a casa, quindi loro i prezzi calmerati li avrebbero voluti come dei tamponi. Vediamo Chiara che ancora una volta siamo sul pezzo, nel senso che le notizie che ci arrivano che confluiscono qui nella nostra redazione, nelle nostre redazioni e nello studio, darle immediatamente ci permette di approfondirle e di parlarne con voi che invece siete sul campo. Chiara a questo punto facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, stai con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo molte notizie da dare da Padova, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus Tg, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, stavamo parlando con la nostra redazione Padovana, ma torniamo con la nostra redazione Padovana. Allora Chiara, quali sono le notizie da Padova? Ecco, allora io tornerei su quello con cui ci siamo salutati qualche minuto fa, quindi necessario il Green Pass anche per i genitori che accompagnano i loro figli piccoli all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. I problemi maggiori ci sono stati proprio all'interno delle scuole dell'infanzia, hanno riaperto quelle comunali, man mano riapriranno anche quelle private, gestite dalle parrocchie, eccetera. Quindi questa è una notizia di servizio. Probabilmente anche le scuole si saranno proprio organizzando in questi momenti per dare comunicazione di questo alle famiglie. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda insomma il grande ambito delle vaccinazioni, l'Ulss 6 di Padova ha istituito l'accesso libero per colf, badanti, per i lavoratori impegnati nell'agricoltura. Siamo tra l'altro insomma ridosso della vendemmia. Quindi è possibile andare senza prenotazione per la vaccinazione anti-Covid. E restando su questo tema, ti darei alcuni dati che sono stati diffusi dall'azienda ospedaliera di Padova con un forte richiamo perché Padova purtroppo si è conquistata in questa ultima settimana la maglia nera per i contagi del Veneto. Siamo una cifra molto molto vicina al 20% rispetto insomma all'intera quota regionale, tanto che in azienda ospedaliera di Padova è stato riaperto uno dei reparti, un reparto di terapia semi-intensiva. Reparti che erano stati chiusi con grande anche gioia da parte di tutti a ridosso dell'estate. In terapia intensiva in questo momento ci sono 8 persone, tra i 19 invece ricoverati per ora in malattie infettive ci sono anche di ragazzi insomma tra i 20 e i 30 anni. L'emergenza non è purtroppo finita. La maggior parte tra l'altro di queste persone questi sono i dati che ci vengono detti e noi li ricordiamo sono persone che non erano vaccinate e sul caso del vaccino diciamo si è rischiata tra virgolette insomma una guerra in famiglia da una parte un fratello medico in pensione e dall'altra una suora all'interno di un convento. Abbiamo già un servizio su questo tema aggiornato tra l'altro proprio questa mattina quindi lo vediamo prima di tornare a Padova. Perfetto. Il richiamo può essere esclusivamente la responsabilità personale di ciascuno e la diocesi da parte sua esorta comportamenti irresponsabili e al rispetto delle normative vigenti. Questa è la parte centrale della lunga missiva inviata da Don Daniele Longato responsabile dell'ufficio comunicazioni della diocesi di Padova al medico padovano Primo Brugnaro che aveva denunciato al vescovo la scelta della sorella suora di non vaccinarsi. Suora Angela, 70 anni, madre superiore di un monastero di Montegalda nel Vicentino ma territorio di competenza della diocesi di Padova insieme ad altre 5 consorelle aveva deciso di non vaccinarsi contro il covid. Il fratello medico dopo aver cercato di persuadere la sorella della bontà e dell'efficacia della vaccinazione ha deciso di appellarsi al diretto superiore della monaca ovvero il vescovo Claudio Cipolla. La risposta della diocesi alla lettera del medico non è tardata ad arrivare. Il vescovo stesso in prima persona e in varie occasioni si è espresso per questa scelta responsabile nei confronti di se stessi e degli altri e la diocesi ha periodicamente informato parroci e realtà religiose afferente alla diocesi della necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni date del governo. Prosegue la missiva di Don Daniele Longato. Tuttavia Suor Angela sembra stia cambiando posizione, non sia più Novax, ma abbia espresso la volontà di vaccinarsi, di voler convincere anche le sue consorelle, restia l'immunizzazione. Questo era il servizio su questa vicenda che ha davvero molto di particolare. Chiara, allora, prima di salutarci abbiamo altre news dal Padova, no? Beh, intanto abbiamo una bella notizia perché il nuoto paralimpico continua a dare grandi soddisfazioni a Padova che per inciso è stata anche nominata città europea dello sport per il 2023, quindi insomma ci sono veramente tante belle notizie per quanto riguarda la Padova sportiva. Per quanto riguarda invece il nuoto, torniamo indietro, è Francesco Bettella, il primo atleta paralimpico ad aver vinto una medaglia per i colori italiani a Tokyo, questo era il 25 agosto, adesso proprio circa un'ora fa nella vasca dei 50 metri d'orso si è conquistato un altro bronzo, quindi è arrivato terzo, si era giudicato alla finale già, insomma si era ricorso il tantamo sui social tutti all'11.31 a vedere la finale di Francesco, Francesco ha vinto, tra l'altro ci sono anche già arrivati i complimenti del governatore Luca Zai, davvero una spedizione molto bella non solo per Padova ma per tutto il Veneto, quella paralimpica e non è ancora finita. e poi se tu sei d'accordo io vi lascerei con un servizio che ci porta in una delle zone più belle insomma del nostro territorio, quella dei Colli, dove siamo ormai a ridosso della vendemmia e dove un esperto di vendemmia ci racconterà come va, come andrà questa vendemmia 2021. Noi ringraziamo Chiara Gaiani per questo interessante collegamento, abbiamo altri 20 minuti di TG, quindi se ci sono notizie importanti da Padova non esitate a richiamarci, le daremo ai nostri telespettatori. Noi ringraziamo Chiara e Cristiano Cheyende per la parte tecnica e andiamo subito a vedere le previsioni sulla vendemmia sui Colli Eugani. Si vendemmia sui Colli Eugani, per prima l'uva bianca come la glera per il Serprino, in parte danneggiata, si stima per un 10% del raccolto dalla imprevista e fuori stagione grandinata del 30 agosto. C'è grande attesa per le uve rosse che verranno vendemmiate tra qualche settimana. Le rosse ci aspettiamo veramente delle buone qualità perché appunto gelate non ci sono state, in collina non si riesce a fare superproduzioni quindi si fanno solo produzioni di qualità, le temperature sono state ottime perché hanno permesso una bella maturazione e sta completando la maturazione perché quella arriverà fra 20 giorni, un mese per chi fa prodotti molto importanti dal punto di vista di struttura del vino. Lì ci aspettiamo ancora cose molto buone, ma ce ne aspettiamo anche sulle bianche. Se le gelate tardive di aprile hanno risparmiato i vitigni in collina, si sono fatte sentire invece pesantemente in quelli di pianura della provincia di Padova, diminuendo la produzione di uva, come ricorda Veneto Agricoltura. Per fortuna le piogge estive hanno ingrossato i grappoli rimasti. Da qui alla raccolta, per ottenere uve sane, servirebbero giornate calde e soleggiate e notti fresche e arieggiate. La quantità di glera subirà oltre al meno 10% nelle zone colpite dalla grandine del 30 agosto, un meno 20-25% nelle aree di pianura dove gelò in aprile. Stessa riduzione per i vigneti di pianura di Pino Grigio, per il quale però nel totale si prevede una buona produzione. In crescita l'uva Merlot, mentre subirà una seria riduzione in pianura con punte fino al 50% in alcune aziende il Raboso. Questa era la previsione della vendemmia, legata, lo sappiamo, a doppio filo anche con il meteo e con il clima. Dal punto di vista climatico ci arriva una brutta notizia perché l'agonia climatica della marmolada non ha tregua. Quest'anno la fronte del ghiacciaio a cavallo fra Veneto e Trenzino Alto Adige è arretrata di 6 metri rispetto al 2020. L'hanno accertato le misurazioni condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova. Il dato più preoccupante è che secondo gli studiosi il volume perduto in 100 anni arriva a quasi il 90%. La superficie e il volume del ghiacciaio più grande delle Donomiti continuano quindi a ridursi. Nonostante la candida apparenza, fanno sapere gli addetti ai lavori, dovuta a precoci nevicate tardo-estive e una nata tra le più nevose degli ultimi 30 anni, il ghiacciaio della marmolada continua il suo inesorabile ritiro. perso il 90%, dicevamo, i rischi di non vederlo più nel giro di pochi anni. Sono davvero concreti e molto che se ne parla, ma quando si inizia a vedere quello che sta succedendo davvero con le foto, i video, i droni, i sorvoli in elicottero, la faccenda si fa davvero complicata. Noi continuiamo la nostra informazione, però cambiamo decisamente argomento. Andiamo a Bassano perché ci sono novità, purtroppo non ci sono importanti novità, ma abbiamo scoperto che effettivamente le autorità si stavano già informando da tempo sulla situazione del Tempio Ossario, uno dei sacrari della Grande Guerra presenti fra il Lampete Montana e i monti del Vicentino, ricordiamo il Monte Grappa, ricordiamo il sacrario dell'Eiten ad Asiago, il Pasubio e naturalmente il sacrario di Bassano del Grappa con oltre 5 mila caduti e anche caduti dalla Seconda Guerra Mondiale, i resti sono custoditi nella città del Ponte degli Alpini, il sacrario, l'Ossario è chiuso da molto tempo, nessuno sa dire perché, il problema è che nessuno dice perché, neppure le autorità, sentite. Sono passati più di cent'anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, nonostante tutto questo tempo si continua a litigare sulla figura di Cadorna con baruffe che rischiano di finire addirittura in tribunale, ci sono fortissime polemiche per i turisti che bivaccano, fanno grigliate, prendono il sole a due passi dai cimiteri di guerra dell'Altopiano e a pochi settimane dall'arrivo della staffetta che ricorderà il centenario del milite ignoto ci sono situazioni come quella del Tempio Ossario di Bassano che vanno monitorate attentamente, venite a vedere. Questo è quello che si trovano davanti i turisti, le persone, chi vuole venire a vedere o a rendere omaggio a chi riposa all'interno di questo Tempio. Il Tempio Ossario è momentaneamente chiuso per adeguamento in pianti, non una parola di più, non una spiegazione di più, non si sa niente su quello che gravita attorno a questo monumento, ma ce ne occupiamo noi, siamo andati a sentire chi può spiegarci qualcosa. Il commissario per l'onoranza ai caduti, cioè il generale che si occupa di tutti i sacrali militari e del nostro Tempio Ossario e ho chiesto ragioni del perché fosse ancora chiuso, così come c'è un rallentamento evidente sul resto dei sacrali. E la risposta non c'è stata. Non c'è stata e così il 12 di agosto ho scritto anche il sottosegretario alla difesa che non sapeva nulla del quadro del nostro Tempio Ossario, cioè in che condizioni versasse. E il 12 di agosto, ecco, io spero che sia stato un problema di vacanze perché non ho ancora avuto una risposta. Comincia quindi da qui, da questi portoni chiusi, da questo silenzio, da queste domande che cadono nel vuoto, la nuova inchiesta di Rete Veneta. Ci eravamo già impegnati per la riapertura del Tempio Ossario. Ci impegneremo anche oggi bussando alla porta di chi può dare risposte, chiedendo informazioni, mostrando quel che accade a uno dei monumenti più importanti della memoria della Grande Guerra. Per non dimenticare, mai. Questo era l'inizio di questa nostra inchiesta perché all'inizio di questa settimana eravamo andati a dare un'occhiata ai portoni del Tempio Ossario di Bassano, naturalmente chiusi con spiegazioni molto vaghe, semplicemente adeguamento impianti, c'è scritto, senza spiegare né quando né come verrà riaperto. Nel giro di una ventina di minuti sono arrivate otto persone, non tutti turisti, anche persone che arrivavano dal Veneto per vedere questo monumento e abbiamo avuto ancora una volta la conferma dell'importanza del Tempio Ossario di Bassano nell'ambito sia della vita locale che di quelle che sono le vestigia, la memoria della prima guerra mondiale. Quindi una inchiesta che proseguirà, che andrà a toccare anche probabilmente nervi scoperti perché non sempre le risposte sono facili. Detto questo, noi riceviamo e rilanciamo un appello da chi sta gestendo, curando, aiutando gli Ibis a ritrovare le rotte migratorie. Sono partiti da Bressanone qualche giorno fa, sono arrivati a Tiene, nel Vicentino, gli Ibis guidati e scortati dalle loro cosiddette mamme con degli alianti a motore. Sono ripartiti, sono arrivati a Orbetello, però qualcuno si è perso per strada, qualcuno si sta riposando nelle campagne del Veneto e chi sta aiutando gli Ibis e Remiti, una specie davvero bellissima, a fare questa trasvolata fa un appello. in questo momento in cui si riapre la caccia. La migrazione degli Ibis guidata dall'uomo ha fatto tappa a Tiene negli scorsi giorni. Partiti da Bressanone, i giovani Ibis si sono successivamente spostati ad Orbetello, in Toscana, mentre quelli adulti sono nei siti di produzione in Austria e Germania. Forte l'appello alla comunità da parte delle associazioni volte a conservare la reintroduzione degli Ibis e Remita. Attualmente in Veneto c'è per esempio Iosefa, che si aggira nel Vicentino. Come lei potrebbero fare tappa in Veneto anche altri Ibis e rimanere anche per alcune settimane. Vogliamo lanciare questo appello alla popolazione per proteggere gli Ibis lungo la loro migrazione. Più persone sanno della loro presenza, più gli Ibis saranno al sicuro. Andiamo a dare una notizia di servizio in questo caso a Corneido in provincia di Vicenza perché slitta la chiusura del cantiere alle scuole medie. Una corsa contro il tempo per adeguare da un punto di vista antisismico la scuola media Crosara di Corneido Vicentino, ma gli sforzi e l'impegno degli uffici tecnici comunali e del cantiere sono stati minati da una serie di imprevisti che non hanno consentito la chiusura dello stesso in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico e così alcune classi sono costrette a migrare in altra sede. Indicativamente saranno otto le classi che dovranno trovare un accomodamento in questa struttura anche se stiamo lavorando con la preside per vedere se si riesce ad individuare delle alternative e quindi a ridurre il numero. La struttura individuata dall'amministrazione di concerto con la dirigente scolastica, il parroco e l'oratorio Don Bosco in piazza Aldomoro a pochi passi dal municipio. La struttura già in precedenza era stata utilizzata per ospitare le classi della scuola Maria Ausiliatrice mentre era in restauro. Gli studenti delle medie Crosara saranno ospitati per circa un mese dal 13 settembre al 13 ottobre. Intanto prosegue un ritmo serrato i lavori per la messa in sicurezza della scuola, un impegno trienale per un valore di 2 milioni di euro complessivi. Un cantiere che alla fine ci restituirà una scuola sicura da un punto di vista sismico. Purtroppo c'è un prezzo da pagare. In questo caso il prezzo da pagare è un ritardo di circa un mese nella restituzione delle aule. È cominciata, abbiamo visto, la distribuzione in Veneto dei profughi provenienti dall'Afghanistan e vediamo come sta andando nel Trevigiano. Ex caserma Serena di Dosson. Entriamo per la prima volta all'interno del centro di accoglienza. L'ala è quella destinata alle famiglie afghane in fuga dal regime talebano, collaboratori dello Stato italiano messi in salvo insieme ai loro cari. C'è il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, venuto a incontrarli. Il presidente della nuova facility che ha in gestione la struttura, Gian Lorenzo Marinese, è arrivato appositamente da Lampedusa e che racconta l'aspetto che più l'ha colpito. Sono arrivate due persone in uno stato di età veramente avanzato, che dici cosa sono in questo momento, come hanno fatto, a trovare la forza di lasciare il loro paese in un momento così complesso, come hanno fatto. Quanti anni hanno circa? Oltre 80 anni. È l'ora di pranzo, grandi e piccoli stanno mangiando, ma due capi famiglia ci parlano volentieri, sforzandosi di ricordare l'italiano imparato negli anni dai nostri connazionali in Afghanistan. È uscito dall'Afghanistan, era stato un casino, sono un sacco di gente, è stato a filo, troppe persone, però gli italiani hanno fatto aiuto, esercito, mi hanno chiamato, sono andato dentro l'aereo, poi uno giorno è stato in Kabul, dopo è passato in Pakistan, in Qatar, dopo è arrivato in Roma. Era 10 anni, nel 2009, che era stato con gli italiani, però assistente PX, non è una scelta, però sono obbligati a venire qui, sono talibani, uccide gente che è stata con gli ISAF, NATO o fuori di Afghanistan, sono stati con loro, uccidere, sono stati noi qui. Hanno detto che dopo che è arrivato il talibano è molto pericoloso per noi, per la nostra famiglia, io con mia moglie e due figli siamo qui, grazie a tutti gli amici qui, hanno provato tantissimo, tutti, tutti i cosi. In Italia per sfuggire alla morte, ma già pensando a ricostruirsi una vita per loro e soprattutto per i figli. Io sto cercando per un lavoro, non voglio che rimani siedi, io sono stato insegnante dell'università, voglio lavoro anche qui, i miei figli sono studenti di medicina, se può io voglio loro continuare a studiare. Il soggiorno all'ex Serena dovrebbe durare poche settimane. La struttura si dimostra nuovamente presidio del territorio, in un momento di emergenza noi ci siamo, offriamo la nostra assistenza e accoglienza e poi sarà compito della prefettura nelle prossime settimane, una volta che avremo finito tutte le procedure sanitarie, individuare altre soluzioni abitative per loro. Questo era il tema dei profughi afghani, naturalmente lo seguiremo da vicino con l'evoluzione del prossimo periodo, questo è solo l'inizio, sappiamo che le prefetture si riuniscono con i sindaci dei comuni più importanti per approfondire, chiarire, capire come gestire la situazione. Cambiamo decisamente l'argomento, torniamo a Venezia e parliamo del Veneto e del cinema, un connubio in piena espansione. Un programma ricchissimo, si va da Sorrentina, dal Modovar, abbiamo due premi Oscar, tanto per dire, ma ce ne sono tantissimi, tra l'altro Barbera quasi ogni anno azzecca l'Oscar, quindi insomma ce lo aspettiamo anche quest'anno. Tra gli addetti e i lavori che seguiranno con particolare attenzione le proiezioni del settantottesimo Festival Cinematografico di Venezia c'è anche Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission, che assieme alla Regione Veneto ha allestito nello storico Hotel Excelsior a ridosso del Palazzo del Cinema, uno spazio e venti con un ricco calendario di appuntamenti di approfondimento a 360 gradi sulla settima arte. Il Veneto è un set ideale perché ha tanti scenari molto diversi gli uni dagli altri, per cui si va dalla montagna al mare, alla laguna, al lago, al fiume, alle città, città d'arte, quindi insomma effettivamente per le produzioni il Veneto è una grande risorsa. Noi esistiamo da poco, diciamo che la fondazione è data di due anni fa, l'operatività di un anno e mezzo circa, quindi di fatto siamo la più giovane Film Commission italiana e sicuramente anche con l'introduzione del fondo di sostegno alla produzione da parte della Regione Veneto c'è un grandissimo interesse verso il Veneto come set. Oltre a promuovere un territorio, a preservarne e valorizzarne la cultura e le diverse realtà, il cinema rappresenta anche una risorsa economica in grado di creare migliaia di posti di lavoro. Il Veneto è sicuramente, diciamo, ha moltissime figure estremamente capaci, estremamente professionali, c'è da fare un grande investimento in formazione, soprattutto per le generazioni più giovani. Più o meno quanta gente lavora nel cinema in Veneto? Eh, bella domanda, io credo che siamo nell'ordine di qualche migliaia con un grande punto di domanda che sono diciamo tutte quelle realtà che sono a scavalco, penso banalmente alla ristorazione degli alberghi che ovviamente hanno una grandissima parte, tutto all'indotto ha una grandissima parte o le location e quella è difficile da stimare. Cambiamo ancora argomento, torniamo a parlare delle ricadute dell'emergenza coronavirus sulla vita quotidiana di ognuno di noi perché il coronavirus, diciamo, fa saltare i blocchi anti-smog. La pandemia blocca lo stop alla circolazione degli Euro 4 diesel. Un'emergenza elimina l'altra, insieme non sono sostenibili, quindi la lotta contro l'inquinamento prodotto dai veicoli a gasolio a Euro 4 viene alleggerita fino al 31 dicembre del 2021 che è il termine attuale dell'emergenza Covid-19. Si è chiaro, con l'allerta arancione e più ancora con l'allerta rossa, gli Euro 4 diesel dovranno comunque fermarsi, ma con l'allerta verde no. Questo perché in un anno già difficile e di profonda crisi economica e sociale, togliere anche le auto ai cittadini sarebbe troppo, anche perché l'alternativa sono i mezzi pubblici che devono girare con capienza ridotta all'80%. In ogni caso a Vicenza continuano gli sforzi, l'impegno e gli investimenti sulle misure che incidono sulla qualità dell'aria. Dal potenziamento della rete ciclopedonale a importanti investimenti nel trasporto pubblico a investimenti, sforzi e bandi che riguardano l'efficientamento energetico sia degli edifici pubblici che degli edifici privati. Torniamo infine a Padova per una notizia di cronaca. Oltre sequestrati 2 milioni di pezzi non conformi dalla Guardia di Finanza. Oltre 2 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova nell'ambito di operazioni partite dai controlli alle uscite dai caselli autostradali e concluse in 4 aziende. Nel corso di 4 distinti interventi presso esercizi commerciali appena riforniti sono stati bloccati infatti 1 milione e 800 mila attrezzi professionali per parrucchieri estetisti importati dalla Cina e sdoganati in Slovenia, 44 mila calcolatori elettronici provenienti dalla Cina e sdoganati in Spagna privi della marcatura CE, oltre 5 mila deodoranti per ambiente con fragranza a base di opio e cannabis importati sempre dalla Cina. Sono stati inoltre sequestrate 3 tonnellate di pellet provenienti dalla Polonia che recava marchi contraffatti relativi alla certificazione della qualità del legno. Tutti i responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, del nostro Focus TG che anche oggi ci ha permesso di raccontarvi che cosa sta succedendo in Veneto, la realtà di questa nostra regione. Le notizie, gli approfondimenti grazie ai collegamenti con i nostri giornalisti, collegamenti che torneranno anche domani. Vi ricordiamo che è stata indetta la conferenza stampa del governatore Luca Zaia alle 12.30 di domani si torna a parlare di emergenza coronavirus, quindi se non ci saranno novità dell'ultimo minuto, cambiamenti di programma dovuti magari a riunioni o impegni istituzionali importanti, domani alle 12.30 torneremo a parlare del coronavirus che ricordiamo oggi ha fatto quasi 900 nuovi casi con i dati che ci sono stati forniti dalla sanità del Veneto, quindi un tema che non va mai messo da parte, bisogna sempre parlarne, capire, approfondire. Noi ringraziamo Renzo Rigone e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.